Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua su questa nuova location volevo fare questo breve video per ringraziare e per dare qualche info però vorrei ringraziare l'amico Bebbe, il seditore RM, per avermi sponsorizzato perché dopo qualche ora hanno cominciato a iscriversi a manetta mi sembra più di 100 iscritti in poche ore quindi lo ringrazio veramente tanto per questo gesto, mi ha fatto molto piacere e poi niente, volevo dare qualche informazione per il fatto che sto caricando pochi video allora, ci sono stati degli eventi un po' particolari nel senso che mi si è rotto l'hard disk della Playstation 3 ho dovuto recuperare un bel po' di salvataggi e in più ho il computer che sta andando a puttane quindi devo rifare il computer quindi caricherò pochi video perché sennò veramente mi muore questo povero computer mi muore ringrazio tutti gli iscritti e anche quelli nuovi e niente, qua è tutto da Geneti di DNA e vi aspetto ai prossimi video ciao ciao